Buongiorno a tutti, sono Simone Verni, sono stato eletto consigliere regionale in provincia di Pavia e mi impegnerò a rappresentare non solo la provincia di Pavia ma anche la provincia di Lodi che non ha eletto un rappresentante in regione. Ho 42 anni, abito in oltre po' pavese e ho avuto un'esperienza pregressa in ambito trasporti perché rappresentavo i viaggiatori in conferenza regionale al trasporto pubblico locale. Sebbene non abbiamo ancora stabilito in quale commissione lavorare in regione Lombardia il mio orientamento sarebbe quello di continuare, dare continuità al mio servizio fatto in ambito trasporti e poi ricoprire l'incarico anche in commissione agricoltura per esempio perché la provincia di Pavia e la provincia di Lodi hanno una vocazione agricola molto importante. Il tema dell'ambiente, quindi anche il tema dell'inquinamento, considerato che provincia di Pavia è la pattumiera di regione Lombardia, sarà un tema sicuramente portato avanti e difeso. A metà aprile ci insedieremo in consiglio regionale, appena possibile vi darò i miei contatti e mi metto a disposizione di tutta la regione Lombardia per qualsiasi necessità. Grazie.